buonasera amiche dalla bellissima piazza duomo a milano e in particolare dalla zona tre torri eccola qui questa in fase di realizzazione la seconda ben strutturata a mo' di vela e la terza attorcigliata mi è piaciuto tantissimo questo complesso city life molto giovane dinamico e in city life ecco il dem negozietto tanto desiderato da tutte noi iniziamo con il primo corridoio dove vediamo alternarsi mini taglie di marchi noti l'oreal garnier colgate e marchi del dem tra cui balea e al verde mini taglie molto utili sia per chi viaggia questa è una novità uno shampoo all'aloe vera ma anche per chi pratica sport questa versione l'avevo acquistata anche a praga insieme a questo 2 in 1 balsamo e shampoo geniale come pack molto utile questa funzione 2 in 1 guardate quanto sono graziosi colorati e attraenti tutti questi mini pack ottima anche questa versione da bambina di shampoo e balsamo qui vediamo tutta la carrellata dei prodotti tesori d'oriente molto ben fornita e qui nel secondo corridoio tutta la parte dedicata alle barrette caramelle dolciumi biscotti e un reparto costellato da tisane tè di ogni genere c'è l'imbarazzo della scelta c'è da perdersi tra tutte queste fragranze qui molto interessante rimando a queste confezioni rosse che mi ricordano tanto la linea della sien dedicata al melograno della veleda e costa 22 euro e 50 per 100 ml di prodotto e guardate se questo pec non vi ricorda la linea ai fiori di mandorlo che ne dite secondo me rimando è scontato oltre che ad essere evidente questa è tutta la zona dedicata alle creme per gli sportivi questa invece è dedicata alla pedicure questa è la schiuma piedi contro le screpolature con urea che era uscita anche da lidl e qui la zona dedicata ai deodoranti spray piedi due in uno addirittura con olio di tè e menta ad effetto rinfrescante il salva slip che amo due forme normale e tanga sono salva slip che si adattano al tipo di slip che utilizzate e questa è tutta la zona dedicata ai deodoranti spray con zero sali di alluminio questa la zona capelli shampoo secco no ma guardate i pec siete invogliate all'acquisto solo per queste confezioni colorate decorate meravigliosamente con questi colori pastello ogni colore è dedicato ad un particolare tipo di capello e ad un colore di capello questo giallo al monoi e il lang lang e per i capelli biondi per questa linea i prezzi sono leggermente più alti ma è sicuramente la confezione che incide qui una mini taglia olio per capelli all'olio di cocco questo è tutto il reparto dedicato agli shampoo ai balsamo maschere per capelli ogni capelli ha la sua la sua linea capelli associata questa è praticamente una fiala ristrutturante per il capello vedete il giallo del pack è il rimando al capello biondo e poi questa progressione cromatica eccola qui la miracolosa maschera trattamento intensivo per capelli biondi che io ho utilizzato ed è fantastica qui invece gli shampoo che parlano da soli pack strepitosi ahimè la full size del 2 in 1 shampoo e balsamo era solo alla fragranza melone e quindi non l'ho presa ma ho portato a casa poi questo shampoo alla vaniglia che meraviglia qui tutta una linea che ricorda molto garnier aloe vera e il balsamo associato questa all'olio di macadamia miele acqua di cocco e qui troviamo il latte idratante al cocco come vedete nel retro c'è l'adesivo con traduzione italiana e quindi è molto semplice balea maschera idratante per capelli in questa monoporzione qui la versione ai fiori di magnolia e questo è il reparto dedicato al trucco che io praticamente non ho considerato visto che sono prodotti che possono reperirsi altrove poi ero dirottata solo sui prodotti balea mi interessavano solo quelli quindi qui ho fatto proprio una ripresa veloce presenti anche gli stand di catrice ed essence come vedete c'è la berry on ma era già stata presa ad assalto sì ci sono le referenze ma non sono ben fornite come vedo nei dem tedeschi e vi ripeto non mi sono soffermata molto scaffale dedicato alla manicure e a tutto ciò che è necessario per una manicure perfetta e qui invece maschere in edizione limitata sono favolose e ne ho prese un po' perché ne volevo regalare bellissima questa rosa cosmic girl guardate che meraviglia questa in azzurro qui è un totem dedicato alle promo alle offerte non so se settimanale o mensile vedete degli shampoo balsamo della al verde che è un'ottima linea che si trova in vendita dal dem questo correttore di debora che assomiglia un po' a quello di charlotte c'era tutta la linea catrice vegana molto bella con questi blush cotti guardate che meraviglia stupendi e mi piaceva tanto anche lo smalto che in realtà sembra quello che ho indosso io questa è tutta la linea dedicata alla depilazione schiuma depilatoria al profumo di cioccolato bianco schiuma c'è anche il gel gel rasatura e addirittura vedo va bene la schiuma che avete visto già prima ma l'olio questo è sempre al cioccolato bianco guardate i pack sono meravigliosi eccolo qua l'olio per la rasatura per pelli delicate per non irritare la zona questa invece è la linea body fit dedicata alla cellulite questi sono i patch per il décolleté questo è un olio corpo rassodante per la parte superiore del busto quindi seno questo è un gel anticellulite tra l'altro con un ottimo prezzo e questa è la crema rassodante vicina alle altre referenze e qui tutti i lip balm guardate che tripudio di colori un arcobaleno meraviglioso vogliamo parlare di queste confezioni questa marca bilu made with love guardate che meraviglia hanno dei prezzi leggermente più alti ma qui si paga la confezione e tutto lo stand dedicato alle maschere iniziamo con la linea bagno i sali da bagno e il pack meraviglioso queste sono perle da bagno fatte a forma di cuore sono bellissime anche per fare un cadeau la boule al profumo di cocco la bath bomb e questi sono sempre i sali da bagno alla melograna e ai fiori d'arancio di balea e vedete vicino quelli del dottor knaip o knaip austriaco è una linea che io trovavo spesso in austria questi pack sono favolosi addirittura la linea per i bambini e tutti i sali da bagno l'amido di riso che rende morbidissima la pelle l'olio da bagno all'arancio dolce sempre la linea knaip guardate i pack per quanto riguarda delle creme mani crema un mousse questa ha le bacche e ai frutti rossi poi vedete anche la mousse della blu e questa invece è una crema mani normale tutti gli oli di mandorle per quanto riguarda i provenzali l'erboristica e via discorrendo tutte le body lotion crema olio corpo pack favolosi qui c'è l'imbarazzo della scelta vi garantisco che si passano ore piacevoli all'interno di questo dm interessante questo scrub corpo al sale marino 3,49 euro per 100 grammi di prodotto vegano mi sono pentita di non averlo preso qui tutte le acque spray e sempre crema e corpo anche in barattoli notevoli ahimè anche questa crema corpo al cocco è rimasta a Milano qui inizia tutta la carrellata delle mousse doccia doccia shampoo anche dedicati ai bambini e sono ottimi e poi la linea per i grandi e qui c'è da sbizzarrirsi a Milano un Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sostituiti oppure eliminati nel periodo invernale, tutta la zona dedicata ai bagni Sensitive Relax. Guardate che belle le confezioni al profumo di aloe vera e fiori di Thierry. Si passa ai saponi mani e alle saponette. Ecco lo stand di Alverde. Queste nuove referenze che non avevo mai visto, anche se al Carrefour della mia città avevo visto dei pack simili. Questo è lo stand dei cosmetici a cui non ho dato molta importanza, ma perché non conosco molto bene i prodotti, anche se ne sento parlare benissimo. Confezioni molto belle che ricordano gli antichi preparati delle farmacie. Questo shampoo alla ciliegia molto interessante, poi con questo rimando botanico del fiore, del frutto sulle confezioni mi piace molto. Questa è tutta la linea di Alverde, una linea molto delicata, rispettosa del pH della pelle, prodotti bio, naturali. Questa dovrebbe essere tutta la linea antirughe, vital più e io sono stata attirata da questo set di fialette ai fiori di bacca. Questa è tutta la linea antirughe da provare nel periodo autunnale per il cambio di stagione, poi abbiamo addirittura gli shampoo, maschere, balsami, ognuno con una funzione specifica. Molto interessante questo set regalo di oli da bagno, molto graziosa come idea regalo e questa è la linea sapone mani di Alverde. Iniziamo con la linea Balea, qui abbiamo maschere diversificate per le diverse funzioni e finalità. Questa è una limited edition ai frutti di bosco, maschera purificante, nutriente all'olio di avocado e miele. Questa è tutta la linea purificante di Balea, antibrufoli, anche le salviette struccanti e il trattamento antibrufoli della Balea, che è molto ben recensito e valutato, vedete tutta la linea si uniforma. Questo è il set per le fialette liftanti con acido ialuronico. Qui le mascherine in tessuto che sono ottime e i patch occhi che finalmente sono riusciti a recuperare e non avevo trovato a Praga. Ottimo anche questo siero due in uno, sia per il contorno labbra che per il contorno occhi e via dicendo. Questa è la linea Vital dedicata alle donne più grandine, donne con età compresa tra i 45 e i 55. Vedete le fiale, le perle liftanti, tutti i sieri intensivi, notte, giorno, crema antirughe, siero intensivo. Sono molto vali di questi prodotti. Vedete il range da 45 a 55. Questo è un siero concentrato contro le macchie di pigmento. Questo non l'avevo trovato a Praga e infatti l'ho acquistato. Anche questo siero schiarente al vitamina C con effetto depigmentante molto interessante. Tutta la linea Q10, antirughe, addirittura i patch al Q10. Questa linea Moon o Mon, non so come si chiami. E poi questa Beauty Therapy, una linea ottima che avevo acquistato sempre a Praga, molto valida. Qui il range Vital più sale per quanto riguarda la fascia di età. Andiamo dai 55 in su. Quindi sieri intensivi, vedete, Vital più. È facile, sono molto intuitivi. Questa mousse detergente delicata con miele e avocado. Per una schiuma detergente anche nutriente. Le creme colorate. Vi dicevo, i pack sono molto intuitivi. Anche i colori rimandano alla finalità che il prodotto ha in sé. Questo è un siero energizzante ed illuminante in questo pack arancione che rimanda ovviamente a quanto descritto. Tutta la linea delle acque micellari. E cosa molto interessante, questi dischetti struccanti con acqua micellare, imbevuti di acqua micellare per make-up waterproof o non waterproof. Sono, mi sembra, 20 dischetti a 99 centesimi. E questa è la versione senza oli. No, sono 50 pezzi. Edizioni limitate anche per quanto riguarda gli accessori, pennelli o strumenti per la pulizia dei pennelli. Guardate il manico di questi pennelli galattici, intergalattici, stupendi. C'è anche un reparto dedicato ai prodotti per i bambini, alle femminucce. E qui qualcosa mi ricorda tanto i prodotti usciti anche da Lidl, da Sien. Soprattutto le perle da bagno e queste perle per colorare l'acqua del bagnetto del vostro bambino. Io spero di avervi tenuto compagnia. Noi ci vediamo domani. Ciao!